loro sono pubblicano cose però nessuno può toccarle e prima nominava altre persone per cui loro fanno cose tu devi credere a ciò che dicono non ti devi permettere di criticarli o far notare niente perché sennò arrivano con l'olio di ricino ti rompono i coglioni provano a rovinarti la reputazione e mi trovo qua insomma lui ha nominato i game experience yaku lo stesso messo alle corde da delle mie critiche mi ha buttato addosso la panzana che si è inventato il caro zucconino di game experience che io pulizzo i disabili insomma ma è una tristezza però che può essere che tipo cazzo i videogiochi sono una cosa che ci appassiona ci unisce in teoria dovrebbe unirci appassionati questa gente sta questo vendente avvelenato che si vuole mettere sul piedistallo queste persone arrivano sono aggrappate all'unica cosa su cui secondo loro sanno qualcosa e pretendono di secondo loro gli altri secondo loro perché ognuno secondo ne sa qualcosa pretendono di arrivare lì e di dire vedi che c'ho ragione io e una persona come me come te come lì come ragazzi in chat li guarda e fa veramente e io allora non so nessuno è proprio che non entrano nemmeno in discussione perché io sono in discussione allora io vi racconto una cosa chi chi mi ha tra gli amici di facebook l'avrà letta faccio uso privato di mezzo pubblico ho scoperto e non mi chiedete come sarà successo anni fa di avere fabio oliva tra i miei amici di facebook fabio oliva che ogni tanto voi sapete che scarto di internet è quella persona e probabilmente i problemi ha dico a quei pochi follower che mi seguono che vengono dal mio canale youtube che mi seguono anche nelle live è il famoso suka mike che cito nei video molto probabilmente la stessa è la stessa fondamentalmente una persona che si nasconde dietro un profilo falso dietro nome falso come fanno tanti anche e sul mio profilo finché mi insulti mi metti la faccina di dente a cose che riguardano videogame o gioco con lo scemo va bene ma oggi si è permesso di farlo su un post mio personale e io l'ho buttato fuori dal canale comunque da domani mi dispiace per persone che mi hanno aggiunto persone che mi hanno aggiunto per altre cose ma persone che non conosco almeno un po' personalmente non sento di avere qualcosa da condividere a tu per tu fuori dal mio profilo perché ci metto cose di famiglia ci metto cose personali non mi va non mi va anche perché questa persona non è che sai chi è allora tu ti metti in macchina vai lì e ci va a discutere a tu per tu questa persona bigliacca mente come riccardo lo bianco che a voce di popolo è una persona che noi tutti conosciamo si nascondono là dietro fanno e poi quando stanno da vicino fanno pure gli amiconi che gente risfacciamo se diceva le mie parte cioè almeno qua uno ci mette la faccia e vorrebbe la delicatezza di non essere rotto le palle sulle cose personali sui videogame su quello che che dico quando faccio cyrus potete dire quello che vi pare vi rispondo a tono non c'è problema giochiamo sullo stesso terreno ma le cose personali non le dovete toccare veramente perché se le gente risfacciamo si zumba aperta questa è gente che non c'è una dignità nella vita non c'è una vita reale c'è una dignità che si sfoga così per sentirsi superiore tornando al discorso ancora ringraziamo nella madonna che noi non sappiamo nomi e cognomi stiamo zitti e non parliamo che siamo dei signori perché che ci vuole a me a dire chi è lo bianco che ci vuole a me a dire probabilmente chi è oliva che ci vuole a dire i messaggi privati che ho ricevuto persone che avrebbero bisogno di aiuto ma questi non le aiuta manco il padre eterno ma il problema è questo che il mondo dei videogiochi da quanto si è ampliato io sono essendo un vecchio nerd tu sei ben di me sei più anziano anche di me però essenzialmente sempre un ragazzino che ha vissuto il mondo dei videogiochi che ha sofferto perché i videogiochi prima erano veramente dappestati avere questo successo questo allargamento della della nicchia della diffusione è un peccato che abbia tratto tanto di quella merda che si vuole sentire superiore o quant'altro eppure il videogioco è veramente un prodotto figo cioè è una cosa che oggigiorno veramente ha un'importanza fondamentale oggigiorno cioè basta vedere twitch cioè funziona più del cinema e lo so ma a quanto pare una cosa così bella riesce a trarre sempre le peggiori persone al mondo anche il problema è che le persone esistono le cattive persone al mondo tutti a modo nostro siamo cattive persone chi più chi meno il problema è che uno potrebbe anche rimanessere a casa sua senza rompere i coglioni agli altri fare il paladino sui social fare il sito di divulgazione fare quello che vuoi tu mi puoi dire sa il tuo hai fatto un canale dove fondamentalmente stai a dire peste e corna di tutti ma io non lo faccio perché ce l'ho con le persone di cui bravo male io lo faccio per andare contro al sistema posso passare attraverso le persone ma non è un modo di fare spettacoli fare di catalizzare l'attenzione e la mia apertura infatti questa live cioè essenzialmente ho detto io non ce l'ho con possetti o serino quando li critico io critico il sistema il loro modo di fare ma loro io so che sono dei professionisti cioè se non sarebbero stati serino scrivere le riviste cartacee non sarebbero questa l'altra sempre un video da fare su un articolo di serino che ce l'ho pronto prima o poi lo farò quando faremo pace lo farò e che lo difendi lo salvi a me è sempre stato sul cazzo su un bel articolo che scrisse per games village e che io conservo gelosamente a che non come io serino faceva le aperture di game republic la rivista cartacea e mi stava sul cazzo come parlava perché per l'appunto io compravo games republic leggere in generale sembrava che scriveva per psn cioè io compravo game republic per leggere in generale sono dei videogiochi la piccola il pippone pro playstation cioè dai però essenzialmente comunque è gente che la vera rivoluzione è questa è attaccare il sistema non fingere di attaccare il sistema e poi cercare di entrarci per sedersi tra i grandi perché molo lo dico con tutto il cuore francesco fossetti al mio numero se mi dividete qualcosa può chiamare anche me dovrebbe essere dai che romanzer mercoledì ma è ancora non mi spiego che cosa ci possa avere a che condividere con queste persone che sono l'immagine dell'incoerenza secondo me però fatti loro ma il problema è che veramente è diventato un sistema marcio cioè nel senso veramente è maculato e chi è qua la cosa che ci divertiamo tutti quanti che quando qualcosa nel sistema non va bene noi diamo la colpa agli operatori del settore del sistema che non dico sono scegliere di colpe ne hanno hanno la loro parte sì soprattutto i pubblici nostra la colpa è nostra perché come sempre bravissimo non dai da mangiare al cane il cane muore bravissimi ho fatto un video che non riesco a montare sto riuscendo a montare riguardo alla storia dei bagarini delle schede video quant'altro effettivamente se esistono queste strutture è colpa di chi è delle persone cioè inutile è colpa nostra essenzialmente è tornato al discorso che infatti a me dispiace che praticamente il mondo di video giochi ora che è diventato serio e cresciuto si è riempito di tutto sto schifo cioè veramente è diventato in vista non vuol dire che deve diventare serio se noi che eravamo sfigati che giocavano ai videogame adesso vogliamo trasformarci in uomini in giacca e cravatta perché il videogame si è messo a giacca e cravatta ci sputiamo addosso da soli se noi dovremmo essere coerenti e rimanere quello che siamo sempre stati a dare peso a ciò che diciamo e ciò che diciamo a dare peso alla nostra onestà intellettuale e quella di dire cose con intellettuale onestà intellettuale cambiare idea e dirlo apertamente ho cambiato idea ragazzi sono cresciuto sono passati dieci anni ho cambiato idea è questo a dare peso alla tua posizione non i numeri non la posa non il pensiero perché si sa il vecchio adagio dice non sputare in cielo che sputa in cielo la gravità te lo riporta in faccia prima o poi negare la natura del gamer sfigato adesso per passare per grandi professionisti serissimi non occorre ridere non fa più ridere significa sputarci in faccia da soli si infatti ora è diventato tutto così serio impostato qui per l'appunto sta generando questa monnezza tipo quest'articolo di virtuo verso l'ho letto queste persone che credono che essere videogiocatori essere sta roba che tremenda di essere in generale che scrivere di videogiochi significa scrivere di cazzi proprio se infatti e non so chi è il cassare di direcchioni guarda io ora ora vado a vedere non mi ricordo che cazzo su game machine ha scritto la recensione questa è un'altra recensione fantastica e capitano su basa mi capita infatti legge la recensione capitan su basa che si parla di tutto parla dei cazzi suoi recensure non come questa di virtuo cioè sta diventando diffuso sto fatto che la gente che scrive gli articoli si sente figo deve parlare di se stesso soprattutto in sede di recensione la recensione la forse è la cosa peggiore che può scrivere un redattore cioè nel senso non deve parlare proprio di se non è per sentire il fatto che ora si è passato nelle redazioni il fatto che se sei un recensore sei un figo se sei un user sei una merda quando invece tu nella news quando fa una recensione una rogna fa una recensione una rogna immensa se vuoi essere veramente onesto sì se vuoi essere onesta perché devi metterti al di fuori della tua soggettività devi essere oggettivo cioè io se vuoi avere quella marcia in più e scrivere in un certo modo fai come fanno le persone che stanno scrivere veramente io ho letto la recensione della stovas parte 2 fatta sui gironi a giovanni marrelli che oltre a parlare del gioco oltre a parlare delle sue impressioni sul gioco ci ha messo in parallelo tutta una serie di percorsi musicali del gioco ti ha dato un cazzo di di più scritto anche bene a quello è un lavoro che ti dà quello che faceva di game machine io c'ho le riviste cartaceo di game machine degli anni 92 mila tu quando recensivo il gioco ti usciva quella piccola trafiletto che ti spiegava che cos'era l'epoca sengoku magari tipo ce l'avevo per total war o qualsiasi gioco ti dava qualcosa in più addirittura fine a fine rivista game machine c'era tutte le robe tecniche informatiche shannon nyquist cioè ti spiegavano quindi le cazzate che leggiamo sui siti ora dell'ssd c'era la rivista cartacea l'utente aveva i mezzi per capire che cazzo è un ssd c'è ti faceva una proposta volevi leggere l'approfondimento informatico leggevi se no no invece ora veramente lsd risolve bug sappiamo quello risolve qualsiasi cosa anche le scottature ti abbronza all ssd se non sai nuotare ti fa galleggiare no io veramente rimango annichidito cioè veramente io sono rimasto male da questa recensione ma perché non è l'unico cioè abbiamo preso per l'appunto come dici tu la persona sorichetti ma non è sorichetti cioè sono un sacco di sorichetti in giro parliamo faulillo vabbè ma l'ho detto anche nella mia live stiamo parlando comunque una persona che c'è anni di mestiere dietro che ha fatto una scelta anche su come porsi su determinate cose e e che è responsabile delle sue azioni non è una persona che si presenta in un modo e poi quando gli fai notare che quel modo non va bene ti dice o che non hai capito o che sei fascista o che lui non voleva dire quello e allora perché cazzo l'hai detto se non volevi dire quello e c'è manuel che cita un famosissimo nome il problema non è che chiunque può scrivere di videogame il problema è che per quanto uno può dissentire con da paolillo in su quelle sono persone che hanno un certo mestiere e sanno anche come le devono fare le cose quelli sotto perché hanno scritto due articoli hanno espresso due opinioni strettamente personali senza nessuna base tecnica su un videogame si credono redattori di sto cazzo c'è una bella differenza di professionalità e lo dico io che molti di loro mi detestano mi considerano un troll un flamer ma è male ma io ne ho stima perché io di chi non lo stima neanche ne parlo neanche lo guardo non esiste invisibile ma infatti poi riguardo a sto fatto che a me mi fa star male anche perché soprattutto e noi cugine cerchiamo di portare la notizia l'informazione in un certo modo da da fanzin da blog però abbiamo delle regole invece sta gente proprio se ne sbatte il cazzo c'è quando tipo per l'appunto il signor liacu in questo caso mi ha detto che scusa non li leggi siti di informazione porca puttana ma se tu devi divulgare se la devo fare io perché la devo leggere ma infatti perché devo divulgare la notizia di un altro sito cioè io in teoria tecnicamente non giornalista io vado dal blog di microsoft dal dev blog mi prendo le informazioni alla fonte l'elaboro secondo la mia conoscenza lì viene un po di soggettività secondo la mia conoscenza soggettiva e spiego agli utenti che andranno a leggere sul mio sito la news che cosa sta scritto in quel dev blog complicato perché i dev blog cioè quante cose noi facciamo io le speculazioni che faccio mi vado a sporciare i bilanci di fine anno io dei bilanci di fine anno escono tutte le informazioni però ovviamente l'utente che gli ne frega cioè l'utente vuole sapere se succederà l'acquisizione quant'altro non si fa spucciare i bilanci delle aziende io come il coglione vado dal sito la square in x mi scarico i bilanci e leggo o da ubisoft o da sony e quindi quando dico una cosa perché l'ho letto in robe ufficiali cazzo e molti provano a farlo e lo fanno anche male c'è la famosa storia che è partita poi questa da grandi testate americane che diceva che a bilancio di sì di project red erano state rimborsate solo 30 mila copie cioè per 30 mila dollari copie di cyberpunk in realtà quei 30 mila dollari erano fondi che erano stati destinati ai rimborsi di cyberpunk sì poi vabbè ci sono gli errori per l'appunto ma in teoria un giornalista dovrebbe fare poi non capisci una naca perché è scarso come giornalista però il problema che a me sta gente che arriva e mi dice non leggi siti di informazione cioè porca puttana tu fai l'articolo di leggi altri siti competitor certo non ha senso il senso proprio sbagliato proprio commercialmente parlando ok se io devo parlare un argomento mainstream a parte che non ho la forza lavoro non ho il tempo una tempestività di farlo prima di una rivista dei top five ok poi aspetto che esce il top five quindi la notizia è sgonfiata mangiata rigirata passata su gruppi telegram condivisa facebook e tutto la leggo io la scrivo io ma che cosa pretendo di fare sì infatti serve per dire a quelle quattro persone che mi leggono io faccio notizie tempestive tempestive di che se vuoi fare attualità fai indagine secondo me ma poi in teoria ci sono le rassegne stampa delle aziende c'è perché dell'azienda c'è un blog tu vai a leggere io cazzo tutte le mattine per cugini mi vado a leggere i blog le robe cioè se trovo un'informazione la metto nel gruppo dove possono leggere i redattori chi fa vuole fare la news la fa non costringiamo nemmeno ma ho sentito di redazioni che prendono gli articoli dai vriai o prendono gli articoli da i siti igne usa cioè porca puttana ma come cazzo state messi c'è io lo igne italia può prendere gli articoli da igne usa se non solo Eurogamer italia può prendere gli articoli da Eurogamer per avere un minimo di coerenza non dice free che chiede se il giornalismo di inchiesta esiste per i videogame in teoria sì esiste e c'è molta gente che lo fa il problema è il mercato di videogame il mercato di videogame lo dicevo due anni fa che è un cazzo di far west lo dico ancora adesso con tutte le cose che ho scoperto strada facendo no dicevo se tu sviluppatore scontento dici che sei scontento perché in quell'azienda succede così la voce si sparge nessuno ti prende più sì è veramente arrivati a livelli che è veramente che sia un'evoluzione comunista per questo ci sono tante fonti anonime tanti ex tante cose perché vabbè non è un ambiente così grande cerco di dirlo in modo o meno per non far danni a chi conosco però essenzialmente per appunto orlando al discorso dell'insider a me fa sorridere i siti informazioni prendo l'insider persone sconosciute su twitter quando io parlo per me non metto in mezzo a me io conosco persone che lavorano nelle aziende mi capita di non avere informazioni da loro quelli sono insiders che non possono che non possono parlare perché praticamente ovviamente passerebbero i guai perché sappiamo la trafile dell'intrattenimento sia nella musica nel cinema per l'appunto per non divulgare i leak famosi eccetera perché rischiano il posto di lavoro anche perché non rischiano seriamente cioè loro smettono la carriera come stai vincendo tu io lo so bene ma hanno raccontato certe cose veramente assurde di lavora a me mi fa sorridere però che la stampa specializzata può essere che voi non avete ragazzi voi che state nella stampa può essere che non avete amici che sviluppano videogiochi nelle grandi aziende cioè ce l'ho io a quanto parlo ha detto anche ora non tutti i suoi schreier hanno la visibilità di schreier che si può permettere di fare determinate cose e ti assicuro che anche schreier non è effettivamente rimane un touch ball c'è a ciaio ogni volta che dice qualcosa si prende in merda da tutto il resto della stampa che difende chi è andato attaccare se si è lui però c'è le spalle grosse c'ha insomma la sua ma è fatta oramai e va avanti ma infatti noi ci muoviamo infatti cugino il limite perché devi avere le spalle grosse per fare una super per dire una cosa cattiva però essenzialmente l'indagine la puoi fare anche tu in autonomia ai assolutori ai tipo la voce nell'orecchio che ti ha detto delle cose tu unisci i fatti che leggi e fai la tue speculazioni o puoi sapere la cosa che sta succedendo cioè in realtà dire che l'ha detto l'insider ti solleva da ogni responsabilità sul ragionamento che hai fatto diciamo che il problema che sono sempre insider di twitter è stato il pregame che cazzo sono sì i consorsi di cazzate insomma da scuole vabbè vedo delle domande in chat ma si domandano e si rispondono da soli mentre faccio mentre noi ragioniamo sulla filosofia del mondo non so magari siamo anche intrattenenti un'altra domanda quando fu presentato resident evil remake ai tre nessuno sapeva che fosse in lavorazione ma essenzialmente capcom ha parecchi ambassador soprattutto resident evil quindi escono le informazioni su resident evil quindi essenzialmente io sono un ambassador ma da anni non mi mandano più cazzo a me cioè porca puttana mi mandavano prima i videogiochi in anteprima per l'appunto come ti ha fatto ha fatto vedere il tuo socio jake jake ha fatto vedere com'è che lui ha i cd con scritto prestation 2 a me mandavano i cd masterizzati per i bastard delle aziende ma noi siamo sempre stati over the top già io quando tipo avevo le prove per l'appunto come dicono loro appunto a due escono i leak famosi ci sono dei beta tester che sono dei tester affidabili che in teoria viene mandata la copia a casa a me mandavano le copie cd masterizzati con scritto sopra il più azar 3 tutto in vpn in remoto perché non sia mai sì sì ora non è ma infatti per me per quello mi contatto più resente l'effetto sorpresa è diventato molto importante nel mercato di eri però io vorrei dire una cosa in conclusione poi tutto questo ambaradano poi magari ci abbiamo verso la fine noi parlo delle tre persone che sono qua di qualcuno che in chat abbiamo fatto i videogiocatori per tutta la nostra vita non abbiamo mai voluto salire sul palco per il gusto di 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 fare la risulta di quelle che ne sapevano di più o altro l'avete visto con con i cd dei beta l'avete visto con tante cose è sempre stata una passione focale nelle nostre vite che ci ha fatto crescere che ha cresciuto anche la nostra visione del media stesso a un certo punto quando la visione del media è cambiata noi siamo noi siamo fra i pochi rimasti a vederlo in un certo modo ed è lì che ci è venuta la voglia di fare un passettino sul palco non per diventare delle grandi bravo ma per far perdere un un modo di vedere il videogame che a quanto pare volete perdere con tutte le vostre forze non dico altro quindi ringraziate l'esistenza dei cugini e io ti dico effettivamente ti metto dietro anche perché io prima di tutto ho attivato il mio canale youtube ma io l'ho attivato proprio per il fatto perché stavo mi sentivo un alieno ho detto porca puttana può essere che non esiste nessuno che la pensa come a me e mi sono messo a me fa cagare lo dico a me e mi scoccio a montare i video non sono fanatico non sono appassionato però per l'appunto ho visto come hai detto tu cominciare a perdere l'appidio vedere che cambiava intorno a me cioè quando mi confrontavo con i videogiocatori per me quelli con cui mi confrontavo non erano i video giocatori non lo so e mi sentivo a disagio da uomini e donne mi sentivo isolato dal mondo perché non sapevo con chi ogni volta mi trovovo sempre controcorrente però ho detto mi metto apro la capo va bene all'inizio mettevo proprio solo l'audio però metto e dico quello che penso io dell'opinione controcorrente ma non è che lo faccio apposta per andare controcorrente proprio perché sto vedendo che sta cambiando il mondo quindi vorrei come detto tu mantenere una certa visione e quindi ho detto mi sono messo in gioco così come ho messo in gioco ho creato il sito cioè l'ho messo per provare vedere c'è altra gente che la pensa come me e piano piano ragazzi ci stiamo riunendo tutti quindi io spero che aumentiamo cioè veramente qual è un sogno a me non me ne frega un cazzo di guadagnare soprattutto io non voglio essere azzato trappiamo menti senzienti al rincoglionimento di un certo modo di raccontare il mondo molto cyberpunk e molto sci-fi perché noi abbiamo accettato per anni di essere gli sfigati che giocavano ai videogiochi non capisco perché chi gioca adesso deve dire di essere un gourmet per sentirsi meglio è una cosa che è insopportabile non vi è disputata in faccia da sole c'è una cosa come massimo cugino ha avuto la fortuna di trovare persone che la pensassero così il mio vecchio sito il mio vecchio canale no purtroppo tanto che purtroppo ha dovuto chiudere te ma chi se ne frega dire c'è nel senso chi se ne frega dell'etichetta cioè nel senso riuniamoci sotto una stessa cosa e veramente ricominciamo a dare perché praticamente serve un'altra alternativa una voce alternativa a sta roba cioè nel senso a me non me ne frega un cazzo di diventare perché io ce l'ho un lavoro guadagno anche bene sto bene non me ne frega un cazzo di accattare soffi ma assolutamente in realtà ecco non è che siamo noi e te e tutto questo nasce nel noi siamo solo quelli che ci mettono la faccia alla fine infatti noi rappresentiamo è quello che ci diciamo quando abbassa il tono di voce free è identico a quella persona che ho detto oggi quindi mi deve fare l'imitazione mi deve fare un vocale delle due ho detto che si inergo non sa parlare di film si è disscritto qualcuno forse si inergo non sono io ragazzi non sono io non sono pierpaolo greco e non sono sinergo attenzione no ma sinergo è bravo è semplicemente il problema l'amico che c'ha vabbè ragazzi prima di dissociarmi da questa cosa prima di perdere un sacco di iscritti perché stiamo di dissociarmi no il problema non è che li perdo gli iscritti che poi arrivano le persone a a rompermi le balle allora comunque è un'opinione di lir di sinergo e di assesso noi ci dissociamo non è un'opinione di mezzo youtube italia io non parlo di cinema in pubblico l'unica volta che l'ho fatto c'era proprio matteo ed eravamo da d'antonio cianci a fare un giochino esatto parlo mai di cinema in pubblico infatti nemmeno io perché non ne capisco cioè io allora io due cose capisco di musica e videogiochi il resto posso dare opinioni ma non mi credo sto cazzo zetta ora ho un iscritto in meno perché abbiamo parlato bere di vedi parlare bere di sinergo non va bene in che senso ho detto che non ne voglio parlare non ho detto le sinergo no non parlare di sinergo genera disiscritti uguale anzi anzi colgo l'occasione per tutti i redattori di qdss.it che sono scappati da qdss.it venite da cucine che io vi adoro a tutti no veramente qdss.it aveva una redazione la piattaforma è vostra potete scrivere quello che vi pare infatti chiunque vuole scrivere per cugine è libero di scrivere perché qua non mi poniamo l'importante è che sapete scrivere l'italiano abbastanza decente e non vi teminchiate totalmente come abbiamo visto il signor Rick Sorichetti per la recensione che vi prendete due minuti prima di parlare di un gioco anche se non avete giocato di informarvi insomma sul contesto almeno leggere la pagina di wikipedia però comunque nel senso lasciamo parecchia libertà di opinione quel Cyrus preso da wikipedia nessuno dirà potete scrivere quello che volete siete liberi di scrivere quello che volete quindi se volete unirvi a cugine tutti liberi di unirsi la nostra unica filosofia è quella di la nostra io metto sempre in mezzo non faccio niente se cugine metto sempre in mezzo la filosofia di cugine è sempre quella di essere liberi il talento è vostro i pensieri sono vostri cugino vi dà la piattaforma il capo Brutus fa notare che si nervo è Cyrus preso da Wish per chi sa la lorde del canale di gioco conoscevo capisci di che stiamo parlando comunque Zetta non so se te lo ricordi forse perché avevo fatto conoscere i tre in Cugine che poi non ha avuto più tempo per farlo Antonio si chiama Dieboli esatto lui era stato contattato in passato da Player Inside da quando era appena dato aspetta aspetta tutti quei redattori di Player Inside che avete spesso perché ha chiuso ha chiuso il sito di Player Inside no no perché il sito di Player Inside di QDSS.it vi giuro aveva dei ragazzi che fantastici a scrivere pazienza che non so come funzionasse all'interno perché poi sono scappato mi sento di dire come potrebbe essere andata la storia quando queste realtà sono cresciute perché è cresciuto YouTube Italia dal lato gaming hanno pensato ovviamente di investire anche in delle pagine web poi dopo ci si è resi conto che non si poteva lavorerà troppo no non si poteva combattere con i top 5 perché i top 5 ma anche perché sono professionali sì ma sono del netto Tom Sarver quindi arrivato a un certo punto se voi avete comunque voglia di scrivere voglia di esprimervi né misurarvi con le dinamiche dei top 5 né quantomeno dedicare la vostra vita a quello perché avete altro da fare QG nel luogo per voi infatti tutti quelli che sono scappati vero giornalismo la piattaforma è posta no ma potete portare quegli articoli che ho letto che erano fantastici cioè sono degli articoli veramente peccato che veramente sono scappati o hanno oplenziati punto di vista mi ha chiuso mi dispiace perché veramente mi piace la roba che leggevo per la gente che ha voglia di scrivere c'è il talento c'è gente che ha voglia di scrivere poi magari qualcuno non può farlo in maniera regolare ma ogni tanto ma a noi va bene anche la triva lo spazio c'è su internet c'è tutto lo spazio del mondo tu guarda a me io non è che riesco a scrivere sempre per esempio però cerco di portarmi una volta ma te non le fans che ti occupa tutto il tempo eh ma tu sei come si dice ragazzo immagine tu sei ragazzo immagine nella redazione quindi stai su qui c'è a fare immagine QG non vende sogni ma solide realtà esatto ma mi faccio il riportino e rifaccio il video tra K Brutus dico la verità Player Inside era primis un sito era come parliamo di videogiochi nasceva come sito e poi è esploso solo come canale di Youtube ma nasceva come sito ha chiuso 30.000 volte ha riaperto 30.000 volte ha chiuso un sacco di volte e ora penso che non ha riaperto io spero che tutti voi ogni tanto ringraziate Giuseppe per la pazienza che ha a tenere in piedi i cugini e anche per l'investimento economico che ha in piedi i cugini no no che per l'appunto la faccio a piacere perché attualmente me lo posso permettere quindi ti potrei vantare un giorno e dire avevo uno dei pochi portali indipendenti che facciano veramente il portale indipendente e chiedere in perdita per davvero non cercavo di lucrare su link Amazon cioè noi ci criticano che i recensori ci hanno possiamo mettere il link Amazon e poi ci sono persone blasonate che fanno gli articoli per venderti il prodotto con Amazon dai contanto di tarifario però sappiate che quei link vanno all'autore dell'articolo sappiate giusto a noi vanno si a noi vanno all'autore dell'articolo e non infatti non monetizzo niente sennò i cazzi miei quindi sempre quello quindi la filosofia è abbastanza indipendente nel senso lo faccio per passione ritornando al discorso non voglio arricchirmi per i videogiochi non voglio nemmeno essere venerati come vorrebbero questi personaggi che abbiamo appena parlato che vogliono essere venerati come spero si dice che noi non facciamo la ribellione ma perché la ribellione che si sta cercando di fare in realtà non è una ribellione è un apocalisse in negativo cioè un cambiamento per dire noi vogliamo essere come tutti gli altri anche noi gamer e noi gamer siamo gamer e vogliamo rimanere gamer essenzialmente noi nasciamo come utenti noi siamo utenti che critichiamo chi non fa bene il suo lavoro ma siamo utenti alla fine compriamo noi e infatti cioè io dopo Watch Dogs che mi ha venduto il buon possetto un saluto e un ringraziamento al nostro special guest che non fa parte di Cugino ma è il nostro padrino ovvero Cyrus Aniseo ciao grazie a tutti vi voglio bene ciao e soprattutto solide realtà ricordate salutiamo anche Solillo il nostro regia che ci ha salvato il culo che doveva entrare in un secondo momento ma ci ha salvato il culo quindi saluta Lillo saluta solillo e nuovamente grazie e al prossimo lunedì se tutto va bene ciao ragazzi toccate ferro toccate ferro toccate ferro non pronunciate sorichette e po' vido grazie 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 a tutti